Tutti impegnati nella valorizzazione turistica ma mai alleati in maniera ufficiale. Le associazioni margheritane, una decina che comprendono balneari, albergatori commercianti, ma anche Proloco, Legambiente e Torrepietra, per la prima volta nella storia della città, firmano un protocollo per promuovere in maniera unitaria il marchio di Margherita di Savoia. A riunirle attorno allo stesso tavolo l'amministrazione comunale e l'assessore alle attività produttive, Michele D'Amato, promotore del protocollo d'intesa con il quale la collaborazione, spesso lanciata all'iniziativa privata, diventa un atto ufficiale. Così le diverse competenze settoriali si mettono in rete per raggiungere alcuni obiettivi comuni, potenziare la promozione del territorio di Margherita di Savoia, dare visibilità reciproca alle iniziative di ciascuno e dei rispettivi brand, sviluppare le iniziative utili in un'ottica di valorizzazione della destinazione turistica del paese, concetti rilanciati durante gli incontri tra il sindaco Paolo Marrano, l'assessore D'Amato e i rappresentanti delle associazioni margheritane. Il traguardo è ambizioso, provare a convogliare in un'unica direzione le diverse anime del turismo margheritano. La sottoscrizione di questo protocollo oggi rappresenta un punto di svolta per il futuro di Margherita di Savoia sotto il punto di vista turistico. Noi veniamo dall'esperienza di Expo 2015 che ha visto il primo progetto integrato a Margherita che ha dato i suoi risultati e che grazie all'esperienza accumulata in quell'occasione ha visto la possibilità di mettere nuovamente al tavolo tutte le associazioni di categoria del nostro territorio orientate verso un obiettivo comune, quello di creare una destinazione turistica di qualità a Margherita. Ovviamente oggi per me, per l'amministrazione, ma soprattutto per il Paese è un momento storico, in quanto con la sottoscrizione di questo protocollo si va tutti nella stessa direzione, una comunione di intenti che ha il solo obiettivo di qualificare ulteriormente il turismo Margherita e di creare nuova attrattiva.